Le Mura Spring Lucca mette a segno un grande colpo di mercato, confermando più che mai la volontà di voler essere protagonista anche nella Serie B di basket femminile. Arriva infatti a Lucca Elena Capodagli, voluta fortemente dalla dinamica scatenata di Essie Immagentile. Il neacquisto biancorosso a 23 anni, 185 cm, ricopre il ruolo di ala piccola. Cresciuta nelle giovanini del basket femminile Pontedera, dove le arrivò anche una convocazione per la nazionale Under-14, la Capodagli ha fatto esperienza anche col Jolly Acri Livorno in fase nazionale. L'ultima stagione ha giocato invece in casa con il Pontedera, dove ha disputato un ottimo campionato, al netto di alcuni piccoli infortuni che l'hanno tenuta fuori dal parquet. Giocatrice versatile, con molti punti nelle mani, dovrebbe essere una sponda perfetta per Viracercasca in area ed un riferimento di grande struttura fisica in fase difensiva. A tal proposito, il roster della B delle Mura Spring può dirsi ormai completo, mentre la preparazione delle biancorosse, agli ordini del riconfermatissimo coach Luca Biagi, inizierà lunedì 26 agosto.